allora per eseguire questo effetto ci vuole un mazzo di carte normalissimo ok e lo spettatore può mischiare il mazzo quanto vuole poi quello che andremo a fare è far scegliere una carta qualsiasi facciamo tipo questa la guardiamo insieme ai 9 di cuori quello che dovete fare mantenerla in cima con un fosso taglio con un mescoglio americana insomma con qualsiasi cosa basta che la carta sia controllata in cima ok dopodiché quello che faremo è farci dire un numero da 1 a 52 quello che lo spettatore vuole facciamo tipo 6 e qua noi andremo a contare 6 1 2 3 4 5 6 prendiamo la sesta ovviamente la sesta non sarà la carta del spettatore perché la sua carta sarà la prima che abbiamo buttato giù qua insomma sta a voi perché è una parte teatrale quindi è tutta presentazione non sarà la sua carta e questa qua la appoggiamo sopra dopo prendiamo tutto il mazzetto e da qua tutto automatico perché se noi ora andiamo a contare 6 1 2 3 4 5 la seresta sarà la carta dollo spettatore